Tutte le cose belle di solito finiscono e anche la rassegna estiva della calibreria volge al termine, però volge al termine con uno spettacolo importante, un momento di festa antifascista addirittura con Adelmo Cervi. Teresa Puglia, un'altra serata in particolare? Sì, questa è l'ultima serata, la calibreria aspettava con ansia questa serata, siamo davvero felici ed entusiasti di avere con noi Adelmo Cervi stasera, non sarà solo la presentazione del suo libro, I miei sette padri, ma sarà un evento che è molto molto di più, sarà una festa democratica e antifascista, una festa per tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Costituzione, è un'occasione per ricordare chi, gli eroi, che opponendosi al regime fascista hanno perso la vita. Mai come in questo momento è importante la memoria, è importante ricordare, la nostra Costituzione è sotto attacco già da qualche anno, ci sono continui tentativi di mistificazione della storia, per cui il percorso verso la democrazia è stato lungo, è stato doloroso e quindi noi abbiamo il dovere di portare avanti i valori della resistenza e di lottare perché si affermino. E la calibreria lo fa sul campo, che stagione è stata questa estiva, anche perché penso seguirà una stagione invernale? Sì, è stata una stagione entusiasmante, nel senso che abbiamo fatto 13 appuntamenti, per noi sono stati importanti, abbiamo trattato dei temi a cui l'associazione tiene in particolar modo, tu lo sai sei stato presente, quindi abbiamo trattato l'immigrazione, il lavoro, la memoria, la resistenza come questa sera e molti altri, quindi siamo davvero soddisfatti, il pubblico ci ha seguito in maniera costante e partecipata e ovviamente l'attività della calibreria non finisce stasera ma continuerà. Adelmo Cervi nel pieno del firmacopio è circondato da un affetto di tante persone che l'hanno ascoltato e hanno capito cosa diceva, cosa che è difficile quando parla un politico, ma Adelmo Cervi è qualcosa di più, un uomo vero. Adelmo, che serata è stata questa soverato alla calibreria? È stata una serata importante sia per la partecipazione, sia per la discussione, sia per gli interventi che ci sono stati e devo dire che avete fatto una serata che me la porterò dietro, quindi penso, è per quello che dico che voglio ritornare anche se mille chilometri sono tanti, ma valeva la pena di farli e li rifarò con piacere la prossima volta. Le persone ti vogliono bene, possiamo concludere dicendo ora è sempre resistenza? Ora è sempre resistenza e diciamo ora è sempre lotta dura contro questa società ingiusta che abbiamo perché dobbiamo creare un mondo di pace, un mondo di giustizia e un mondo di solidarietà. Questo è quello che noi penso che dobbiamo fare con forza e il compito che ci dobbiamo prendere. E un'altra cosa che devo dire, lottare per la Costituzione non solo a parole, ma infatti noi dobbiamo lottare per farla applicare questa benedetta Costituzione che da 70 anni che è lì che aspetta di essere applicata. Valentino Santagati, Valerio Mazza e la musica, però la musica che fa cultura, che fa anche rivoluzione, perché si possono dire tante cose anche con le note. Assolutamente sì, penso che sia quasi ovvio dire che noi abbiamo una tradizione di musica cosiddetta d'autore che, a parte la musica popolare, se vogliamo partire dalle radici proprio da lontano, che esprime con una verità assoluta quelle che erano le istanze popolari delle persone più umili e quindi le aspirazioni, il desiderio di libertà, la denuncia dell'oppressione, eccetera. Tradizione che è stata poi ripresa, come stavo dicendo, dalla musica d'autore italiana e quindi abbiamo i nostri famosi cantautori degli anni 60, 70 che hanno portato avanti questo messaggio, questo tipo di discorso creando delle composizioni originali, ma sempre prendendo spunto da questa radice, diciamo, popolare di musica, diciamo, democratica, per così dire. Io non avevo riconosciuto, perché sono poco fisionomista, Valentino Santagati, poi ho sentito il check sound e l'ho riconosciuto, perché è anche un modo di cantare particolare il suo. Non lo so quanto possa essere particolare, probabilmente risente dell'imprinting, cioè quando ero piccolo sono stato vicino a persone di estrazione pastorale, soprattutto contadine, e loro hanno un modo di emettere la voce che è molto diverso dalla vocalità che si sente alla radio, alla televisione, cioè tendono alla lacerazione, all'imitazione dei suoni d'ambiente. Non può darsi che siano strascichi di questa formazione? E allora, avendo una coppia di artisti, musicisti e anche cantanti, siamo nella pinetta democratica antifascista, siamo alla festa antifascista e alla calibreria, lo accenniamo bella ciao? In coppia? Si potrebbe fare, se la improvvisiamo... Dobbiamo metterci l'accordo sulla tonalità... Ma sì, ci metteremo d'accordo... La minore, sol maggiore... Ci metteremo d'accordo, dai... Vediamo... Io avevo pensato proprio di fare delle canzoni del periodo del folk revival. Come diceva Valerio, c'è stata una grande tradizione del canto sociale, che poi ha avuto una stagione in cui è stata diffusa in un circuito molto ampio di conoscenza, perché c'era una carica emotiva con cui ci si accostava a queste espressioni della cosiddetta cultura, delle classi subalterne, perché c'era una volontà di trasformazione della società. Quindi queste canzoni marcavano un'appartenenza, rappresentavano una possibilità di aggregazione sotto il segno di un'ideologia. E allora sono state molto cantate e hanno pure rappresentato un momento di volontà di trovare una nuova cultura per una nuova società.